Oggi è una giornata importante perché si è siglato un protocollo di intesa qualche giorno fa con la Regione per quanto riguarda le associazioni che difendono i diritti delle donne e i mass media. Ci sembra veramente particolarmente significativo questo protocollo perché noi oggi ricordiamo l'inizio del processo del Circeo che avvenne il 29 giugno del 1979, processo che fu uno dei più efferati che ancora oggi si possono ricordare e che portarono la città di Latina alla ribalta della cronaca nazionale. Ma quel tragico femminicidio, allora ancora non si usava la parola femminicidio, fu anche l'inizio per la nostra città di incontro di numerosissime donne della città ma non solo della città. Vennero anche i collettivi femministi di Roma che sfilarono insieme alle donne protagoniste di quel momento e assistettero per tutto il mese di giugno fino alla sentenza del 29 luglio al processo del Circeo. Quello fu un momento significativo per le donne della città perché cominciarono a parlarsi, cominciarono a raccontare le loro storie e anche diciamo così le violenze che molti di loro subivano all'interno delle mura domestiche. E possiamo dire che da quel triste evento poi nacque il centro donna, per cui per noi oggi l'affissione di questo lungo striscione che abbiamo messo sulla parete del palazzo che ci ospita vuole essere un monito per tutti i cittadini per ricordare, e infatti l'abbiamo intitolato ora come allora femminicidio, per ricordare che siamo ancora così lontane dalla risoluzione del problema. Ogni giorno muore una donna, una donna è morta ieri, una l'altro ieri e così nel corso di questi dieci giorni ne sono morte quattro o cinque e dall'inizio dell'anno siamo arrivate a 59. Perché è così importante il linguaggio che deve usare la stampa nel raccontare i fatti di cronaca che riguardano donne vittime di violenza? Ma diciamo che la stampa usa sempre un linguaggio che richiama all'emotività in quel momento, racconta il fatto cruento, racconta spesso e volentieri, lo descrive come un raptus omicidia, come una follia temporanea, invece questo non lo è e credo che ognuno di noi come cittadino, e quindi anche la stampa deve fare la propria parte, deve cominciare a modificare il linguaggio, perché attraverso il linguaggio e la comunicazione si può cominciare a modificare anche l'attenzione del cittadino che legge il giornale, un'attenzione che deve essere rivolta non allo scoop della morte, ma deve essere rivolta alla riflessione sul dato culturale e strutturale della violenza di genere, in maniera tale che l'opinione pubblica si comincia a sensibilizzare in maniera diversa al fenomeno che purtroppo è quotidiano. Anche il termine baby squillo che sentiamo spesso sui giornali può essere fuorviante? Assolutamente sì, è assolutamente fuorviante perché la baby squillo è frutto di una cultura, è frutto di una richiesta, è frutto di una mercificazione e soprattutto quando si è molto giovani ci possono essere motivi diversi, c'è soprattutto, devo dire, anche quello che soprattutto in televisione si vede, questo corpo della donna esposto in maniera tale che le giovani possono essere sollecitate a pensare che una via facile per arrivare a fare soldi, per affermarsi, eccetera, sia anche quello di prostituire il proprio corpo. Quindi siccome per noi è, ecco e mi fa piacere aggiungere questa cosa, è particolarmente importante e significativo lavorare con le giovani generazioni perché dai giovani è con i giovani che si può cominciare a modificare questa cultura patriarcale. Noi siamo collegati con la rete nazionale dei centri antiviolenza, la rete DIRE, che è sempre molto presente, molto attiva nel fare comunicati stampa che appunto sollecitano la riflessione su questi episodi che sono veramente degli episodi che ci sembra difficile immaginare ai giorni d'oggi e invece purtroppo ancora esiste il problema del branco, del branco che si fa forza, che mette in piedi le cose peggiori dell'essere uomo, diciamo così, dell'essere maschio, come se si dovesse affermare una superiorità, una forza attraverso una sessualità malata e come dire, ledendo la dignità della persona, andando a colpirla in quello che è la propria persona. Un pensiero di speranza, parliamo di numeri e di soluzioni trovate in tanti anni dal Centro Donna Lilith che ci fanno vedere un futuro più roseo, speriamo. Noi infatti sono contenta che mi ha fatto questa domanda perché in realtà noi vorremmo, ecco che anche la stampa in realtà, cominciasse a parlare dando alle donne, soprattutto che sono vittime di violenza, quindi attraverso i messaggi della carta stampata o dei mass media, una possibilità di speranza.